Ascana Way Invece di sgranocchiarla cruda E' così buona cruda Fa anche crunch crunch E poi sei molto sexy quando fai crunch crunch More, quando faccio crunch crunch è perché mi sto masticando i denti nel giudizio Siamo al tracollo finanziario Siamo al tracollo finanziario Minchialo spread Puttana Monti Minchia Monti Minchialo spread Minchia Monti No e lei risponde Ma non ti sembra di esagerare 17 euro di gas Lo sapevo E' colpa tua Che vuoi sempre La pasta cotta E' così buona cruda E poi E poi sei molto sexy Quando fai Crunch Crunch Come un Uno scogliato Un castoro Un criceto Troppo facile Porcellino d'India Castorone E lui le risponde Lui si incazza Guarda che l'ultima volta che mi hai fatto fare il crunch crunch Il dentista Il dentista Ha fatto Porsche Porsche E' vero E' vero Era anche comodissima Si suda un po' con gli interni in pelle Mi hanno fatta sudare a bestia Ma perché hai fatto un giro in macchina col dentista? Ma vai eravamo parcheggiati Ti ha portato Ti ha portato a fare un giro in macchina? Cinzia Ma sei fuori Eravamo parcheggiati Ah Cinzia Sembrava Sembrava E lei gli risponde Dobbiamo trovare Dobbiamo scotennare la balorda di tua madre O io ho la soluzione dei nostri problemi economici Sembrava Allora no Lui deve comunque recriminare di nuovo Ah So io come raccimolare denaro Con l'eredità Il programma di tv Con l'eredità Il programma di quello di colore Il programma di quello afro Il programma con l'afroamericano Ma chi? Carlo Conti? Invece che Carlo Possiamo un altro Bruno Conti Ma chi? Bruno Conti? Si capirà che è Carlo Conti? No secondo me lavoriamo su Carlo Conti Così la rendiamo più forte Carlo Conti? Ma che dici? Ma che dici? Ma che dici? E' adottato Non è africano Come Balotelli E' naturalizzato Naturalizzato è più dolce? Si E' naturalizzato Come Balotelli Ma non è naturalizzato E' italiano Allora non capisco a cosa alludi E' lei Scanniamo la vecchia di tua madre Scanniamo la balorda vecchia Di tua madre E' la madonna Che franchezza E' la madonna Che diretta Che franca E' la madonna Che franchezza Ma sei stronza No stronza dopo balorda no Ma sei scema? No troviamone un modo più aulico di dire sei scema C'è una roba desueta Ma sei fuori di melone Capito? Ma sei fuori di cotenna Ma sei fuori di cotenna Ma sei fuori di cotenna Allora no invece Ecco lo sapevo No e lui dice No e lui dice Mia madre non c'ha una lira Sei sempre il solito egoista 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 un piffero Allora perché non facciamo fuori la tua? Ma mia madre non c'ha una lira Perché mia madre non c'ha una lira E' una madonna Che cinismo Che cinismo Che spietatezza Che spietatezza Che spietatezza Chi sei? Predator? Chi sei? Ehm Ehm Nerone No tipo Come si chiama? Lucrezia Borgia Quel bastardo Il ladro Diabolic Chi sei? Diabolic Ehm ma Diabolic E' una roba un po' da vecchi No Lucrezia Borgia Lei capisce la porno star O Ana Borgia Cosa c'entrano? Adesso Le attrici Corne Ma no Quella E' Luana Luana Borgia O anche Dove ce ne può avere l'autografo di Luana Borgia? Su un fazzoletto di carta Su un fazzoletto Usato? No Vabbè Allora dai Tagliamo la testa al Toro che siamo già lunghissimi Sì Vabbè Tieni Gli da uno di anni tipo Allora Tieni questa matita Cacciavite Gli da una matita Tieni vai E fai quello che devi Tieni Ma con una matita Sai che la penna uccide più della spada? Sai che la penna ferisce più della... No sicuramente no Troppo Ma cosa faccio? L'ammazzo con una lettera Tieni questa bic E fai il tuo dovere Cobra Una penna E cosa faccio? Dai Cinzia Ma figa Cinzia Cinzia Cosa faccio? L'ammazzo con una lettera L'acoppo L'ammazzo con una lettera L'ammazzo L'ammazzo con una lettera L'ammazzo con una lettera Ma va 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 Ok Fatto